Francesca Pascale, rompe il silenzio sulla separazione da Paola Turci Ora si concentra sul futuro.Dopo mesi di silenzio, è stato rotto il ghiaccio e il commento sulla separazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è arrivato La coppia, che aveva attirato l'attenzione del pubblico e dei media per il loro matrimonio celebrato nel luglio 2022, ha sempre vissuto con riservatezza la loro storia d'amore Tuttavia, dopo settimane di voci e speculazioni, il commento ha finalmente offerto una sua versione dei fatti, gettando luce sulla situazione e indicando come vede il futuro Le prime notizie riguardanti una possibile separazione tra Francesca Pascale e Paola Turci erano cominciate a circolare verso la fine dell'estate 2023 Nonostante la loro presenza pubblica fosse sempre stata ridotta all'essenziale, l'assenza di apparizioni congiunte e il mutismo sui social avevano fatto scattare sospetti tra i fan della coppia Alcune fonti vicine avevano riportato che le due stavano affrontando un periodo di riflessione, lasciando aperta la possibilità di un riavvicinamento o di una rottura definitiva I fan della coppia attendevano di conoscere ulteriori sviluppi, soprattutto su possibili dichiarazioni ufficiali che chiariscano la situazione Dopo un lungo silenzio mediatico, arriva fuori la verità. Le parole non lasciano spazio a equivoci Francesca Pascale e Paola Turci, dopo mesi di silenzio, emergono dettagli sulla rottura La relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci, una delle coppie più seguite dai media italiani, sembra essere arrivata al capolinea Secondo le indiscrezioni riportate da Dago Spia, le due avrebbero deciso di separarsi dopo un lungo periodo di crisi, iniziato già oltre un anno fa La rottura, che sarebbe ormai confermata da più fonti, sembra derivare da divergenze caratteriali e episodi di gelosia che avrebbero minato la stabilità della coppia nel tempo Il sito di Roberto D'Agostino è stato il primo a parlare apertamente di una crisi tra la Pascale e la Turci, descrivendo in un commento molto chiaro la prima come troppo inquieta per stare con Paola e la seconda come troppo gelosa Un mix esplosivo che avrebbe logorato progressivamente il loro rapporto La presunta incompatibilità caratteriale si sarebbe manifestata in diverse occasioni, creando tensioni sempre più difficili da gestire Uno degli episodi che sembra aver alimentato ulteriormente la crisi è un'intervista rilasciata da Francesca Pascale, le cui dichiarazioni avrebbero scatenato malumori tra le due Parallelamente, voci di un presunto avvicinamento di Paola Turci ad altre persone avrebbero peggiorato la situazione, insinuando ulteriori dubbi e insicurezze all'interno della relazione Sebbene nessuna delle due protagoniste abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, attualmente le due starebbero affrontando aspetti patrimoniali La storia tra Francesca Pascale e Paola Turci aveva fatto molto discutere fin dall'inizio, soprattutto per la forte attenzione mediatica che la accompagnava Dopo il matrimonio civile celebrato nel 2022, le due avevano vissuto un periodo di grande serenità, ma le difficoltà interne sembrano aver prevalso L'equilibrio raggiunto all'inizio sarebbe stato progressivamente destabilizzato dalla differenza di personalità e dalle insicurezze personali, elementi che hanno contribuito a incrinare il legame che avevano costruito insieme Ma come andrà a finire?